ciao benvenuti o bentornati sul mio canale oggi siamo risiamo con un blog ho fatto un po di video ieri ho girato claudio ho girato il video dell'organizzazione lo posterò in settimana però l'ho già girato è già pronto quindi siamo tranquilli l'ho fatto fatto il video se lo volete andare a vedere al massimo ve lo metto anche qua ho fatto un video tag con mio marito vi presento finalmente lele se lo volete andare a vedere questo è già caricato quando vedrete questo e poi cosa ho girato a il video sui fondotinta e il video dei prodotti finiti insomma ne ho girati un po perché così poi mano a mano posso postarli anche se ho altro da fare insomma tipo oggi che oggi sono a casa da sola fino alle tre e mezza perché i bambini sono a scuola lele a lavorare e quindi devo fare assolutamente 1700 miliardi di cose tra cui il cambio armadi perché comincia a fare caldo e poi io preferisco farlo quando non c'è nessuno perché vado faccio casino poi loro i sistemi insomma quindi la situazione è tragica nel senso che ho deciso di tirare fuori tutto armadio per armadio e andare a rimetterli dentro perché c'è un casino allucinante devo eliminare un sacco di cose devo vedere cosa comprare sia per me sia per i bambini sia per lele e quindi è un lavoro abbastanza lungo comunque vi farò vedere step by step quindi questo è l'armadio delle giacche che va lì quindi adesso lo vado a pulire e poi vado a sistemare le giacche ci sentiamo dopo ok sono passati una mezz'oretta e sono già molto soddisfatta perché ho fatto la parte delle giacche quindi qui ci sono va bene le mie mantelle di lana le giacche quelle pesanti i miei cappotti e qua ci sono i vestiti del matrimonio il mio è quello di lele qua invece ci sono praticamente cuffie sciarpe guanti di lele i maglioni quelli un po più i maglioni quelli pesanti proprio i maglioncioni tra cui questo con la renna col naso quello natalizio questo invece è l'armadio di lele e qua ci sono vabbè c'è la sua vestaglia le giacche quelle eleganti che è comunque pantaloni corti pantaloni lunghi camicie gilet e lì sotto ci sono le felpe senza maniche le felpe lunghe qua sotto ci sono i maglioncini quelli leggeri leggeri maglioncini più pesanti i vestiti della ditta con cui lavora questi sono i maglioni famosi di cui parla nel video andatelo a vedere delle 100 domande con cui dorme e le magliette in quella scatola ci sono le cinture questo è un profumatore dell'armadio là dietro ci sono delle magliette quelle che nelle varie aziende con cui lavora che deve indossare il grembiule che gli ha regalato per il festa del papà e basta quindi questo è fatto adesso passiamo agli armadi delle lenzuola ho eliminato un po di cose poi vi faccio vedere allora altra parte sono le dieci e mezza quindi sono soddisfattissima allora nella parte la ci sono delle tovaglie dietro questi sono i coprimaterasso delle federe quelle che metto sotto la federa normale le lenzuola nostre le lenzuola dei bambini e tutti gli asciugamani quindi a posto qua invece c'è il mio armadio che è fatto così io ho solo un armadio quindi niente di che e ho messo qui le sciarpine qua sono dei vestiti un po più eleganti qua cominciano i vestiti corti estivi ho già fatto cambio ovviamente sto facendo cambio armadio vestiti un po più lunghi vestiti lunghi canote che vanno appese maglietta maniche corte che vanno appese un po anche divisi per colore anche qua un maglioncino questo nuovo bellissimo che ho comprato da pittarello e ho pagato la bellezza di 17 euro e mi piace tantissimo camicette a maniche corte camicette un po più lunghe jeans pantaloni leggeri diciamo gonne questi sono la sorta di cardigan insomma che si mettono sopra questo è una giacchetta di jeans questa sempre nuova che ho preso all'ovs di questa marca che è stupenda delle cose bellissime e ho pagato 19,99 e è stupendo anche lui questa è una giacchettina è un un cardigan un po più pesante che però tengo perché non si sa mai e la mia vestaglia qua invece ci sono le divisioni che ho fatto delle mie cose qua ci sono le cose per il viaggio le cinture i sieri le creme le maschere detergenti tonico le cose per il corpo tutte le cose per il viaggio qua ci sono le bralette qua ci sono i body intimi e qua i collant queste sono cose che non uso tanto quindi le ho messe qua pigiami e camicia da notte un po più leggeri un po più estivi maglioncini che ho tenuto per l'estate e qua metterò le felpe ne mancano alcune ma le metterò tutte qui quindi il mio cambio armadio è da questa parte è finito e non vi faccio vedere quello che c'è dietro ma proseguiamo ok sono riuscita anche a finire di silestimare il settimanale qua ci sono tutti i miei gioielli vabbè qua ci sono i profumi qua ce ne sono due chiusi tutti i miei gioielli bigiotteria poi ci sono il cassetto che vi avevo fatto vedere con trucchi il cassetto della biancheria intima calze che ho visto che devo comprarmi dei fantasmini per esempio slip slip rossi che tanto non uso ma ogni natale ce n'è uno ma poi li metto qua e reggiseni qua abbiamo le calze di lele che come vedete le dobbiamo comprare nuove alcune sono a lavare qua ci sono i boxer di lele qua i pigiami di lele e qua invece ci sono le mie canottiere da casa o comunque le canottiere quelle da tutti i giorni insomma così qua ci sono i leggins lunghi leggins quelli a mezza gamba insomma e dei pantaloncini corti anche questi li devo ricomprare ma finché non li ho comprati tengo questi e qua invece ci sono i pigiami quelli a pantaloncino insomma manica corta pantaloncino e qua sono due copri costumi barra vestiti molto molto leggeri da piscina casa e tutto quanto è allora calcolate che come vi ho detto nel video dell'organizzazione questi vestiti sono vestiti che comunque posso utilizzare anche per uscire cioè non è che sono vestiti rovinati o così il genere diciamo sono un po più sportivi ecco e qua abbiamo finito ok non guardate lì perché tanto ripeto devo poi tirare su tutto pulire e fatto allora qua ci sono le è la cassettiera che ho in camera con sulla televisione non vi faccio vedere cosa c'è sopra perché c'è la roba di lele e vi spaventereste allora qua ci sono le magliette di lele quelle scure quelle grigie quelle colorate quelle bianche ovviamente anche qua ne mancano perché sono a lavare e a stirare ma intanto le ho sistemate qua invece ci sono le magliette a maniche lunghe e le canottiere quelle diciamo l'evogatore quelle tagliate quelle maniche corte diciamo ecco qua se riusciamo aprire il cassetto con una mano ci sono tutte le mie magliette come vedete io utilizzo il metodo della piegatura pacchetto e mi trovo benissimo perché ho tutto sotto controllo è una di quelle cose che ho preso da mary condo una delle poche allora qua ci sono le magliette a maniche corte quelle un po più sportive diciamo quindi cioè sempre carine ma da mettere su un jeans o così qua ci sono quelle nere un po più carine qua ci sono delle canotte col pizzo in fondo lunghe qua ci sono delle canottiere normali sì mi piace l'azzurro e queste invece sono quelle fatte col collo alto tipo camicettine insomma qua invece ci sono dei sotto giacca collo alto che però ho lasciato qua perché per comodità qua c'è un top all'uncinetto fatto da mia mamma bellissimo questo è un altro in maglina e queste qua invece sono tutte a collo alto nell'ultimo cassetto spero di cambiarla presto questa cassettiera ci sono le magliette a maniche lunghe i coprispalla quindi hanno solo le maniche sostanzialmente e ho dovuto mettere qua i miei reggiseni quelli a balconcino perché non sapevo dove metterli quindi il mio cambio armadio è quello di lele è fatto adesso passiamo a quello dei bambini ok ho finito di fare il cambio armadi sono mezzogiorno quindi sono in bollissima riesco poi a fare anche le altre pulizie poi oggi andremo a judo e quindi fino alle sei e mezza non se ne parla anche perché dovremo andare in pullman perché lei ha la macchia allora poi vi farò eventualmente il tour della della cameretta però adesso è veramente messa male e quindi devo sistemarla ve la faccio quando è un po più calma però vi faccio vedere come ho suddiviso i vestiti dei bambini perché faccio questo perché visto che ho fatto dei video sull'organizzazione secondo me io ho una casa molto piccola per quattro persone molto piccola comunque per me è molto piccola per quattro persone quindi gli spazi sono pochi bisogna ottimizzare al massimo e quindi io ho deciso di dividere così allora i miei figli hanno questa cassettiera e poi vabbè là ci sono le scatole che andranno là in alto queste due sono due scatole con dentro i ricordi di mattia e di nikki qua là invece ci sono i vestiti di mattia quando sarà molto più grande poi qua chiudo così poi ve la apro dopo qua abbiamo la cameretta fatta ponte ma se qualcuno mi segue da un po' questa non è cambiata e là ci sono giochi cose scusate mi ha chiamato lele allora dicevo lì sono giochi libri cose del genere quindi non riguarda i vestiti i vestiti sono qua io ho preso questi qua credo o da aliexpress o da amazon non mi ricordo con la il pennarello quello aspetta ve li faccio vedere eccoli qua con il pennarello gesto liquido praticamente sono tipo lavagna così ho scritto cosa riguarda quello che c'è dentro nell'armadio e in questo caso ci sono dentro i vestiti di nicolas adesso ve li faccio vedere i vestiti di nicolas e le giacche sia di mattia che di nicolas qua ho già fatto il cambio qua ci sono i completi maglietta pantaloncino canotte pantaloncino e questa invece è la rete della sponda del letto perché non sono ancora riuscita a togliergli la sponda del letto ma ho tolto la rete perché se no non riesce a vedere la televisione la ci sono dei maglioncini qua ci sono delle felpino tenuto fuori una felpina un filino più pesante e qua ci sono i pantaloncini corti quindi poi pantaloncini corti qua invece ci sono i key way vabbè questa è la cintura di nikki la cintura di judo di riserva e questo è da comprenando i matti allora qua invece ci sono i key way qua ci sono le cuffie e le sciarpe e guanti di nicolas e qua quelli di mattia qua sopra invece ho messo tutti i loro cappellini e qua chiuso così qua invece c'è l'armadio di mattia allora l'armadio di mattia ha dentro i suoi jeans pantaloni della tuta e tute qua ci sono tutti i pantaloncini corti su due lati si su due linee perché non ci stavano qua invece c'è la magliettina del grest e qua è una polo perché è l'unica polo che ha qua invece ci sono le felpe sempre anche lui ho tenuto fuori una filippina un po più pesante e i completi pantaloncini e maglietta pantaloncino e canotta e quindi questo è l'armadio di mattia qua torniamo a nicolas perché lì ci sono appese le giacche quindi qui ho appeso praticamente i suoi pantaloni le sue camicie tutto quanto e lì sotto abbiamo le tute quelli la li dovrò togliere devo prendere un sacco sottovuoto perché sono le vestaglie in pile ma sono grandissime quindi devo metterle sottovuoto perché se no non ci stanno e qui è l'altra parte di michi poi nella parte praticamente qua della cassettiera abbiamo qui l'intimo di mattia quindi mutande canotte calze calze antiscivole calzini i fantasmini anche qua con i divisori ho usato quello che avevo in casa non ho comprato assolutamente niente qua abbiamo la mattia le maglie e le canotte sempre fatte a pacchetto magliette a maniche corte e canotte quasi tutte anche queste a vogatore poi qua abbiamo i pigiami e le magliette a maniche lunghe quindi sono i suoi pigiami queste sono ancora lunghi quindi maglietta e pantalone lungo questi invece maglietta pantalone corto e sono fatti su quindi dentro hanno praticamente il loro pantaloncino invece qua sono le magliette a maniche lunghe qua invece c'è l'intimo di nicolas quindi tante cose sono a lavare devo stirare un sacco di cose qua praticamente abbiamo gli slip le mutandine le canotte le calze sempre fantasmini sono divisi uguali qua metterò le antiscivolo che ne ho tenute fuori due o tre perché a volte quando vanno nelle sale i giochi servono e le metterò qua degli antiscivolo poi qua invece abbiamo i pigiami e le magliette a maniche lunghe sono divisi per tutti lo stesso modo qua sempre pantalone maglietta lunga qua sempre i pantaloncini e maglietta sempre fatti su con dentro il loro pantaloncino e qua abbiamo le magliette a maniche lunghe invece qua abbiamo le maglie e le canotte quindi qua sono le sue magliette a maniche corte e qua le canotte quindi questi sono i vestiti dei miei bambini allora quando sono rimasta incinta adesso aspettate che eccomi seduta per terra col degrado dietro che devo sistemare allora non hanno tanti vestiti i miei figli o quantomeno non ne hanno io vedo gente che ne ha tantissimi ma ridurrò ancora sempre per il discorso che facevo con il discorso del video dell'organizzazione che a questo punto devo caricare prima di questo perché poi se no non capite di cosa sto parlando io non sono anche qua per i bambini per il guardaroba capsula però non sono neanche del disco per il discorso di comprare mille cose quando sono rimasta incinta di mattia e quando mattia era piccolo un po io un po mia suocera un po i miei gli abbiamo preso veramente miliardi ma miliardi di vestiti cioè lui aveva tutto l'armadio questo qua che vedete era tutto suo praticamente è tutto pieno e mi sono resa conto che molte cose non li ha neanche messe o tenevo delle cose che non mi piacevano ma potevano servire ho delle cose appunto anche per loro per stare in casa o delle cose più belle ho eliminato tutto questo discorso quindi loro hanno i loro vestiti che io lavo appunto facendo una lavatrice al giorno hanno sempre più o meno tutto lavato e cerco di prendergli il minimo indispensabile quando vado a prendere le cose cerco di fare già l'abbinamento quindi magari prendo una maglietta perché mi capitava magari di avere mille magliette ma nessuna maglietta che andasse bene con quel pantaloncino quindi quando vado a comprare dico questa maglietta starebbe bene con quel pantaloncino piuttosto che questo pantaloncino magari posso metterlo sotto questa 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 maglietta e quindi lo vado ad acquistare altrimenti non lo acquisto Mattia ancora tante cose quindi Nicola vive un pochino di rendita volendo ovviamente tengo solo le cose belle le cose seminuove quindi Mattia per esempio adesso con le scarpe non ci riesco più perché Mattia le distrugge e quindi non riesco a passarle a Nicola se gliele compro nuove però tante cose sono passate da Mattia a Nicola stavendo due maschietti e per cui cosa succede che adesso Mattia comincia a avere un po' meno Nicola si invece ha un po' di più perché ovviamente come dicevo Mattia aveva tanti vestiti Nicola si è nato che Mattia aveva quattro anni per cui adesso ancora vive un po' di rendita diciamo e quindi ha tante cose però sto cercando veramente di ridurre al minimo prima di tutto perché voglio magari comprargli qualcosa di un po' più carino ma che magari costa qualcosina in più e seconda cosa perché appunto non tengo più cose per stare in casa gli metto su tutto quello che gli devo mettere perché poi appunto mi ritrovo a metter via delle cose dei bambini ancora nuove la cosa mi fa imbestialire oltretutto io ho una nipotina femmina quindi non posso neanche a parte qualcosina non posso neanche trasferire alla mia nipotina i vestiti e per cui niente tutto questo pippone per dire che adesso ho finito di fare il cambio armadi però sono stata una grande perché cambio armadi miei cambio armadi dei bambini dalle nove a mezzogiorno quindi lavando anche gli armadi per cui alla grandissima però questo funziona avendo poche cose da tirare giù cioè nel senso da cambiare io per dire per il nostro cambio armadi il mio e di Lele ho una scatola dove metto proprio le cose più oppure proprio prettamente estivo prettamente invernali e una busta dove metto i pigiami invernali e per i bambini hanno una scatola ognuno che non è neanche piena quindi faccio abbastanza in fretta ovviamente più che altro per i bambini il discorso di scegliere quello che di mattia va bene a nicolas quello di nicolas che va eliminato quindi è più lungo questo discorso insomma niente quindi il mio cambio armadio è finito qui e basta adesso vado a mettere a posto casa perché casa comunque è rimasta con una bomba in esplosione cioè esplosa una bomba quindi devo sistemare il tutto prima di mettere via le scatole che ho lì aspetto un attimo perché alcune cose le devo stirare sono da lavare e tutto quanto quindi devo vedere se c'è ancora qualcosa da sistemare prima di rimetterli in alto perché se no continuo andare su e giù il lavoro inutile mi sono resa conto che devo ricordarmi di chiudere i cassetti gli armadi perché il gatto è venuto voglia di andare a dormire nei cassetti quindi ho alcuni vestiti dovuti lavare perché sono pieni di peli e vabbè a parte queste cose niente ci vediamo dopo grazie